A distanza di oltre cinque mesi a conclusione delle indagini preliminari due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Vito Turi, l'operaio 58enne che il 20 febbraio scorso perse la vita schiacciato da una rotoballa di fieno in un'azienda agricola di Albanella. Nei giorni scorsi il sostituto procuratore della procura di Salerno ha notificato il provvedimento al titolare della ditta di Laviano presso cui l'operaio originario di Santomenna lavorava da anni e la committente dei lavori o meglio la proprietaria dell'azienda agricola in località Cerrina dove è avvenuta la tragedia. Per entrambi l'accusa è di omicidio colposo in concorso aggravato da condotte omissive, negligenti e imprudenti in violazione di numerose norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Stando alle indagini infatti sembrerebbe ci siano state negligenze nelle operazioni di carico e scarico dal rimorchio sequestrato all'epoca dei fatti dai carabinieri insieme alla motrice. I due indagati avranno ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere ascoltati dagli inquirenti o presentare memorie difensive dopodiché sarà il pubblico ministero a decidere se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio.